Simona Parrino e sono la titolare di Pianeta Oro quindi noi ci occupiamo di compravendita di oggetti preziosi. Allora abbiamo deciso di fare marketing nel web quando abbiamo visto che comunque la quantità di persone che arrivava in negozio per esempio era comunque da internet e quindi ovviamente c'era bisogno di implementare quella linea. Prima posizione per me è fondamentale nel senso che tutto quello che abbiamo fatto precedentemente era sì buono ma era troppo lento mentre appunto prima posizione usa delle tecniche, usa delle cose nuove. La cosa che mi piace che mi dà è la vicinanza nel senso che comunque sono comunque presenti quindi quando io chiedo qualcosa sono presenti e mi piace comunque il loro modo innovativo di lavorare perché le agenzie precedenti era diverso ecco questo è un modo totalmente nuovo di lavorare. L'analisi è stata incredibile per me personalmente è stato uno dei soggetti principali perché io ho sempre creduto determinate cose della mia attività mentre nell'analisi ho scoperto delle cose che non avrei mai saputo quindi e subito dopo mi ricordo che dopo aver visto alcune parole chiave che mi erano state messe nell'analisi le ho messe subito in alcuni post di facebook e sono state istantaneamente hanno avuto il prodotto quindi già solo quella è stata ripagata. Allora in merito al servizio mi ha stupito comunque il modo è un modo tutto nuovo quindi io mi devo comunque c'è voluto un po' di tempo per per calibrarmi però mi piace ecco mi piace so che darà dei risultati ecco